Quante volte avete letto che per fare il pieno di vitamina D bisogna prendere il sole nelle ore più calde senza protezione? Oppure l'avete sentita quella che saremo tutti deficienti? No, cosa avete capito? Deficienti di vitamina D, non ne abbiamo abbastanza. Dicono che più del 50% della popolazione mondiale ha valori di vitamina D sotto al minimo. Mica come nel paleolitico dove correvano tutti i nudi e le creme solari neanche sapevano che cosa fossero. C'è poi quel guru della paleodieta che dice che visto che non possiamo correre nudi per le strade dobbiamo prendere gli integratori. Più se ne prendono e meglio è. Non basta mica arrivare al minimo, bisogna accelere, bisogna puntare in alto. Ma in alto quanto? Ciao a tutti, io mi chiamo Beatrice Mautino e in questi video parliamo di i cosmetici ma visti con gli occhi della scienza. Oggi parliamo di vitamina D. La vitamina D è stata scoperta negli anni 20 del secolo scorso dall'osservazione che l'olio di fegato di merluzzo oppure l'esposizione al sole preveniva o curava il rachitismo nei bambini. In realtà quando parliamo di vitamina D ci riferiamo a due molecole, la vitamina D2 o ergo calciferolo e la vitamina D3 o cocole calciferolo, entrambe accomunate dallo stesso destino. La vitamina D3 è quella che si produce nella nostra pelle quando le cellule della pelle vengono colpite dai raggi ultravioletti di tipo B, ma è anche quella che assumiamo dagli alimenti di origine animale. La vitamina D2 invece è più rara, si trova in natura solo in alcuni funghi e rappresenta una delle poche fonti alimentari delle persone che seguono una dieta vegana. Che si tratti di D2 o di D3, la fine che fanno all'interno del nostro organismo è la stessa, vengono ulteriormente modificate dal fegato e dai reni nel calcitriolo che è la forma attiva di vitamina D. Il calcitriolo è un ormone che ha la principale funzione di mantenere l'omeostasi del calcio, cioè far sì che le cellule ossee abbiano calcio a sufficienza per fare il loro mestiere che è quello di tenerci in piedi. Ma quanta vitamina D serve per stare bene? Allora l'agenzia europea per la sicurezza alimentare, l'EFSA, ha stabilito che ogni giorno ne dovremmo assumere circa 600 unità internazionali di vitamina D. Questo valore corrisponde a circa 15 microgrammi di vitamina D e l'EFSA consiglia di non superare i 100 microgrammi, cioè le 4000 unità. Questi valori sono specifici per le persone adulte. Per quanto riguarda i bambini il discorso è un po' più complicato. Le linee guida delle società pediatriche consigliano di integrare a tappeto a tutti i lattanti la vitamina D. Questo perché il latte umano ne è carente, anche se è un alimento effettivamente completo, però ha poca vitamina D. E in più i bambini non dovrebbero essere esposti alla luce diretta del sole. Il risultato è che possono avere meno vitamina D di quella che gli serve effettivamente. Per darvi un'idea delle quantità in gioco, un cucchiaino di olio di fegato di marluzzo oppure 100 grammi di salmone contengono 450 unità delle 600 per gli adulti necessarie ogni giorno. Il tonno ne contiene poco meno, 350, le sardine e il pesce azzurro sono intorno ai 200, il tuorlo d'uovo, il fegato, anche loro contengono vitamina D. Il risultato è che chi ha una dieta varia ed equilibrata e ha un'esposizione al sole, diciamo così, normale, non dovrebbe avere problemi ad assumere la quantità giornaliera necessaria di vitamina D, sia con gli alimenti sia attraverso la sintesi con i raggi ultravioletti. Queste quantità dovrebbero permettere di raggiungere il valore fisiologico di vitamina D, cioè quanta vitamina D in circolo dobbiamo avere per stare bene. Ma qual è questo valore? Allora, partiamo dal basso. Non ci sono dubbi che valori inferiori a 8-10 nanogrammi di vitamina D ogni millilitro di sangue possono dare problemi seri, come il rachitismo nei bambini oppure una condizione analoga negli adulti. Man mano che si sale con le quantità le cose si mettono meglio, ma per capire quanto è questo meglio dovete seguirvi un attimo nella storia che sto per raccontarvi. Una decina di anni fa la National Academy of Medicine americana ha pubblicato un rapporto nel quale affermava che dal punto di vista delle quantità di vitamina D gli americani potevano stare tranquilli, ne avevano a sufficienza. Il rapporto si concludeva con la raccomandazione ai medici di prescrivere gli integratori di vitamina D solo alle persone che ne avessero effettivamente troppo poca. A questo punto però entra in scena nella nostra storia un personaggio di quelli pazzeschi, si chiama Michael Hollick ed è stato un grande scienziato. Più di 400 pubblicazioni su riviste internazionali anche molto importanti, pensate che quando ancora era studente ha scoperto la forma attiva della vitamina D e poi nel corso della sua carriera ha prodotto dei test per la misura della vitamina D, ha contribuito allo sviluppo dei primi integratori per la cura del rachitismo oppure dell'osteoporosi e dal punto di vista accademico insomma era uno scienziato di quelli importanti, aveva una cattedra alla Boston University e ha addirittura lavorato per la NASA. Quando Michael Hollick prende in mano il rapporto della National Academy of Medicine gli prende un colpo. Per lui quelle raccomandazioni erano inaccettabili, si mette subito al lavoro e nel giro di pochi mesi esce con un nuovo studio. La sua ricerca riprendeva gli stessi dati ma arrivava a conclusioni completamente opposte. O meglio la sua raccomandazione era la stessa di quella della National Academy of Medicine, cioè quella di prescrivere gli integratori e i test solo alle persone che ne fossero realmente carenti. Ma nel suo caso questa fetta di popolazione corrispondeva alla quasi totalità degli americani. Com'è possibile che gli stessi dati portino a conclusioni completamente opposte da parte di scienziati che dovrebbero condividere il metodo? Quello che cambia nei due studi è l'asticella. Dovete vedere queste cose come il salto in alto. C'è un'asta che viene messa ad una certa altezza. Chi la supera senza buttarla giù vince e passa al turno successivo. Chi la butta giù viene eliminato. La National Academy of Medicine ha messo l'asticella a 20 nanogrammi di vitamina D per ogni millilitro di sangue considerando vincitori tutte quelle persone che avevano più di 20 nanogrammi per millilitro. Michael Hollick invece quell'asta l'ha alzata non di poco a 30 nanogrammi per millilitro. Quindi tutte le persone che avevano vinto la gara della National Academy of Medicine e che avevano valori di 21, 25 ma anche di 29 venivano eliminati invece dalla gara di Hollick che nel frattempo aveva creato una nuova categoria, cioè quella delle persone con una insufficienza di vitamina D. cioè dal 40 al 100% della popolazione americana. Questo lavoro di alzare l'asticella di quella che è considerata la condizione fisiologica ha un nome ben preciso in medicina. Si chiama disease mongering, cioè invenzione di una malattia e ha delle conseguenze abbastanza inevitabili e immaginabili. Crea un nuovo mercato. Grazie alla sua influenza Hollick è riuscito a pubblicare il suo studio su una delle riviste di riferimento per i medici di famiglia americani. Con la conseguenza che i consumi di integratori e di test per la misura di vitamina D sono cresciuti alle stelle. In Italia nel 2017 il mercato ha raggiunto i 300 milioni di euro, il doppio rispetto al 2013. Tanto da far preoccupare l'agenzia italiana del farmaco che ha definito la vitamina D un sorvegliato speciale perché il suo attuale utilizzo generalizzato non è supportato da prove che i benefici siano superiori ai rischi. Cioè non sappiamo se assumerla faccia più bene oppure più male. Urca. Il rischio più grande è quello di assumerne troppa. Molti studi clinici hanno evidenziato come pazienti che assumano elevate quantità di integratori di vitamina D possano avere delle conseguenze paradossalmente proprio sulla salute delle ossa, cioè siano più esposti al rischio di fratture. A fronte di questo rischio, le prove che si stanno accumulando negli anni ci dicono che l'entusiasmo di Michael Holick e delle persone che hanno deciso di seguire la sua linea beh deve quantomeno essere ridimensionato. Nel gennaio del 2019 per esempio New England Journal of Medicine ha pubblicato i risultati del più grande studio sulla vitamina D mai pubblicato fino ad allora. 26 mila partecipanti seguiti per cinque anni e trattati quotidianamente con integratori di vitamina D, olio di fegato di merluzzo oppure entrambi. Al termine del periodo di osservazione i ricercatori non hanno notato nessuna differenza tra le persone che assumevano della vitamina D in più nella dieta e il gruppo di controllo, cioè le persone che assumevano un placebo. Lo studio si concentrava sulla prevenzione dei tumori e delle malattie cardiovascolari. Pochi mesi dopo ne è uscito un altro che si occupava specificamente del diabete e in questi mesi e nei mesi a venire ne usciranno altri che andranno man mano a ricostruire l'intera mappa delle possibili azioni della vitamina D. Quindi il dubbio che la somministrazione a tappeto su tutta la popolazione o comunque una buona fetta di popolazione possa essere una buona idea beh viene abbastanza. Così come non sembra essere una buona idea quella di esporsi alla luce solare soprattutto nelle ore più calde senza protezione. Pensate che anche in questo caso c'è lo zampino di Michael Holick che nel suo libro The UV Advantage consiglia di non utilizzare le creme solari perché porterebbero a una riduzione del 95% della produzione di vitamina D. Ma è vero? No. O meglio potrebbe esserlo ma in condizioni ideali. Nel 2012 un gruppo di ricerca dell'Università di Copenhagen ha misurato la produzione di vitamina D in seguito all'esposizione ai raggi ultravioletti applicando sulla pelle dei partecipanti all'esperimento degli strati di crema solare ed effettivamente si vede che la produzione di vitamina D diminuisce all'aumentare della protezione. Queste però dicevamo sono condizioni ideali fatte in laboratorio con una fonte artificiale di raggi ultravioletti e con le persone ferme immobili con la crema spalmata addosso. La realtà è molto diversa. Come ho spiegato in uno dei miei video precedenti noi di crema solare ne mettiamo troppo poca e la mettiamo troppo poco frequentemente ma anche nelle condizioni migliori. Le creme solari non riescono a bloccare il 100% dei raggi ultravioletti. Una piccola quantità di raggi UV passa sempre. Questa quantità è sufficiente a raggiungere le cellule della nostra pelle e a stimolare la produzione di vitamina D. Tant'è che i risultati sul campo parlano abbastanza chiaro. Negli anni 90 sono stati fatti molti esperimenti con gruppi di persone che utilizzavano creme solari oppure che non le utilizzavano seguiti anche per molto tempo. Parliamo di esperimenti che sono durati anni. A termine degli esperimenti i vari gruppi avevano valori di vitamina D comparabili. Non si vedevano differenze tra chi utilizzava la crema solare e chi non la utilizzava. Quindi se negli anni stanno crescendo le prove che l'integrazione a tappeto della vitamina D non sia una buona idea e se invece sappiamo che la protezione solare è importante e che non va a influire sulla produzione di vitamina D perché alcuni medici oppure alcuni nutrizionisti continuano a consigliare l'assunzione di integratori in grandi quantità oppure di esporsi al sole senza protezione. In parte si tratta di soldi. Michael Hollick per esempio riceve finanziamenti sia dalle aziende che producono integratori per la vitamina D sia da quelle che producono i test per la misura di vitamina D ma ha ricevuto finanziamenti anche dalla UV Foundation una fondazione legata all'associazione di categoria dei produttori di lettini solari. Molti dei guru della paleo dieta se andate a vedere sui loro siti beh vendono loro stessi gli integratori quindi in quel caso l'interesse economico è diretto. Ma ridurre tutto questo movimento solo ai soldi non sarebbe corretto. Nel suo libro Hollick si definisce un crociato solitario nella battaglia per la vitamina D e la scelta della parola crociato non è casuale lascia trasparire il carattere ormai quasi religioso di questa sua attività. A costo anche di rimetterci la carriera per le sue posizioni Hollick ha perso la cattedra alla Boston University ed è stato radiato dall'American Academy of Dermatology. La sua è una storia pazzesca dicevamo che ho provato a raccontare nel mio nuovo libro La scienza nascosta dei cosmetici. ero partita con l'idea di fare chiarezza sulla vitamina D ma da qualsiasi punto partissi per analizzare la vicenda arrivavo sempre a lui, arrivavo sempre a Michael Hollick. Ma questa storia che vi sto raccontando oggi ha due finali che adesso andiamo a vedere. Sul piano pratico soprattutto per il nostro paese a ottobre 2019 è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale la nota 96 dell'agenzia italiana del farmaco relativa alla prescrizione a carico del sistema sanitario nazionale dei farmaci e degli integratori a base di vitamina D nella quale di fatto si riporta l'asticella là dove avrebbe sempre dovuto stare cioè a 20 nanogrammi per millilitro. Solo chi ha valori inferiori a questi e contemporaneamente presenta sintomi di ipovitaminosi potrà accedere al rimborso di quella che chiamiamo comunemente mutua. Allo stesso modo saranno rimborsate le prescrizioni per le donne in gravidanza o in allattamento e poi per una serie di malattie che sono elencate nella nota 96. Tutti gli altri cioè tutte le persone che superano l'asticella cioè che hanno valori superiori ai 20 nanogrammi per millilitro beh se vogliono prendersi la vitamina D se la devono pagare. Di sicuro la pubblicazione di questa nota segna un passo importante che non potrà non essere preso in considerazione dai medici. Il secondo finale che vi racconto è quello di Michael Holley che è quello più cupo ed inquietante. Lo scienziato è stato coinvolto come perito della difesa in oltre 300 processi americani di violenza sui minori. Lui ha portato in aula la tesi che le fratture che avevano i bambini non fossero dovute alle percosse dei genitori oppure di altri adulti ma o ha una carenza di vitamina D oppure ha una malattia genetica rara la sindrome di Heller-Danlos che colpisce le cartilagini, le articolazioni, le ossa e la pelle. Le sue testimonianze hanno permesso di scagionare decine e decine di coppie di genitori accusate di violenza nei confronti dei loro figli. In uno degli ultimi casi raccontato dalla rivista New Yorker in un reportage che vi invito a leggere, vi metto in descrizione. La bambina a pochi giorni da rientro a casa dopo il processo che era andato a favore dei genitori è finita di nuovo in ospedale, questa volta con il cranio fracassato in maniera inequivocabile dal padre che infatti poi è stato arrestato. Anche di fronte a questo Michael Holley che ha continuato a tenere il punto e a difendere la sua tesi. Questa storia che finisce male ci insegna che anche i migliori scienziati possono perdere obiettività o per i soldi oppure perché magari si sono innamorati un po' troppo della loro idea. Ma spero che da questo lungo racconto sia passato anche un altro aspetto che per me è fondamentale. Un camice non dimostra niente. Che si tratti di medici, di nutrizionisti, di guru o della Mautino? Quando ci mettiamo a parlare di questi temi così delicati non stiamo portando la nostra esperienza e nemmeno la nostra opinione. Dobbiamo rifarci a quello che viene chiamato consenso scientifico, cioè l'insieme degli studi, della conoscenza scientifica su quel determinato argomento. Le nostre opinioni personali, così come le nostre esperienze individuali, anche se siamo degli stimati professionisti, beh non sono rilevanti. E se vogliamo fare un servizio alla comunità dobbiamo imparare a metterle da parte. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, diceva Spider-Man. E il camice bianco di potere ne ha parecchio. Per alcuni medici un po' troppo innamorati della loro idea, beh forse sarebbe il momento della responsabilità. Per oggi la chiudo qui. Se vi è piaciuto questo video, beh valutate la possibilità di sfogliare il libro da cui ho tratto questo racconto e che contiene molti altri dettagli che non sono riuscita a far stare nel racconto di oggi. Ci ho lavorato molto, ho girato in lungo, in largo per aziende, laboratori, sono stata anche in miniera per provare a raccontare la scienza nascosta dentro ai cosmetici. Con qualche divagazione come questa sulla vitamina D che però ci stava tutta. Se vi va trovate il link in descrizione, se non vi va beh amici come prima e ci rivediamo qui su YouTube, su Instagram o su Facebook. Alla prossima!